Gentili telespettatori, buona giornata. La sinistra si inventa il reato di sviluppo. Eh sì, la politica dovrebbe svolgersi in aula. Le dinamiche sono che chi vince le elezioni ha la maggioranza in Parlamento, chi perde le elezioni ha la minoranza, chi ha vinto guida il paese, fa le leggi avendo la maggioranza. Quelli della minoranza devono controllare quello che fa il governo e in aula fare tutto quello che è possibile fare per contrastare eventualmente cose che non si condividano. In aula. Ma se tu non riesci ad assimilare il fatto di aver perso le elezioni e vuoi comandare, vuoi importi, allora che fai? Vai dalla magistratura a denunciare il governo governo inventandoti il reato di sviluppo sul ponte di Messina. Eh sì, eh sì, ve adesso quello che vi racconto ha dell'incredibile. L'ultima iniziativa del Partito Democratico Folcloristico in qualcosa che su cui si è dissociato perfino il Giuseppi, Conte, l'idea geniale, quello di immaginare e il futuro progettare lo sviluppo, ecco, questi democratici che hanno molto poco di democratico, perché se tu vai dalla magistratura a denunciare il governo che sta facendo una legge, c'è qualcosa che non va profondamente. Ieri sono inventati, scrive Libero Quotidiano, questo reato di sviluppo. In tre hanno infatti annunciato di aver presentato alla procura di Roma una denuncia contro il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Pertanto, Libero ipotizza che è una denuncia contro il padre politico Matteo Salvini, ma insomma non è una denuncia verso il governo del paese. Beh, naturalmente Salvini è abituato a vedere tradotti i suoi atti politici in dibattimenti penali nei tribunali. Vedi il caso Open Arms dove lui facendo il suo lavoro viene accusato di sequestro di persona. E c'è un processo, pensate un po'. Salvini ha sempre detto che è un processo politico. Beh, la maggior parte degli italiani pensano che sia così. È abbastanza ovvio, palese, cioè sfido chiunque a dire che Salvini non ha detto quello che dovrebbe essere la realtà. Intanto il ponte sullo stretto di Messina, approvato dal governo, alla sinistra non va giù, che si faccia quello che loro non vogliono. L'idea di sviluppo del Sud Italia, con un'opera maestosa, importante, che porterà tantissimo lavoro, tantissimo sviluppo al Sud. Velocità di spostamenti, merci, turisti. E qui pensare che l'opposizione ipotizzi un reato, il reato di ponte sullo stretto. Non c'è niente da ridere. Questa è la democrazia secondo Elena, detta Ellie. L'alternativa a questo governo si costituisce tutti insieme, dice la sinistra. E se non volete fare come diciamo noi di sinistra, allora noi vi deunciamo per il reato di sviluppo, il reato di ponte sullo stretto. Quindi un'alternativa magistrati compresi. Se il PD e la sinistra non riesce perché sono in minoranza in Parlamento, allora si rivolgono alla magistratura. Dai, facci vincere tu. Eh dai. Ecco. Il progetto del ponte secondo il PD è sbagliato. Se lo avessero proposto loro era giusto. Quindi oggi, come dice Calenda, la politica è fatta dal io nego tutto quello che proponi tu. Anche se mi piace, io devo dire che è una schifezza. E qui è uguale. Il governo vuole fare il ponte e loro devono dire che è sbagliato. Ma è una cosa che piace anche a loro. Ne sono assolutamente certo. Ma dicono che è sbagliato, anacronistico, dannoso, dispendioso. Cioè il male assoluto. Questo ponte è il male assoluto. E a dice abbiamo deciso di firmare insieme la denuncia per vederci chiaro. E cosa devono vedere? Cosa devono vedere? Chiaro che cosa? Chi lo sa? Dice così la grande capa che, diciamo, dà le sue opinioni discutibili. Dice la grande capa che ci vogliono vedere chiaro. Su che cosa non si sa. Ma quali sono questi cavilli sui quali bisogna vederci chiaro? Dice la prima ragione è che il governo ha deciso di la caducazione di un contenzioso con il consorzio Eurolink per 700 milioni di euro. E questo il punto ovviamente è la caducazione, non l'ammodernamento del mezzogiorno che Bonelli ha invocato fino a mezz'ora prima. Inoltre, prosegue il grande Bonelli, siamo stati spinti alla preoccupante reticenza della società Ponte sullo Stretto e del governo a rendere pubblici documenti cruciali per una piena comprensione delle procedure che hanno riguardato il progetto. Quali procedure che non c'è neanche un mattone messo? Vabbè, il bello è che avrà anche ragione, ci sarà sicuramente qualche procedura che va ancora e compresa, bisogna capire come lo stanno facendo, ma quelle sono cose tecniche. E' proprio su questo il problema, sulle procedure che è fermo il ponte, procedure, 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 la burocrazia ferma le opere pubbliche, questo lo sappiamo da sempre. Quindi, non so se il PD vuole vederci chiaro sulle procedure burocratiche, divertitevi, ma non credo che la magistratura dia seguito a questa pagliacciata, del vederci chiaro sulle procedure. Bene, e così oggi un PD che non si rassegna ad aver perso le elezioni, non si rassegna che oggi il governo decida di fare questo ponte finalmente, e allora vanno dalla magistratura a denunciare, sperando che la magistratura gli dia un aiuto che loro in Parlamento non riescono a trovare. E così insinuano, che strano, mentre Salvini e la Lega esultano per l'autonomia di Calderoli, poi vogliono unire l'Italia con un ponte. Strano, vero? Quelli che volevano dividere l'Italia oggi fanno il ponte per unirla. Quindi insinuano che ci sia qualcosa sotto, che il ponte in realtà camuffa qualcosa. Forse camuffa solo la loro fantasia. Arrivederci a tutti e grazie.